La tematica di Mondrian è di estrema chiarezza. Per le sue composizioni, egli si è valso di due mezzi espressivi elementari, il contrasto di proporzioni e il contrasto di colori puri. Dei tre principali tipi di forme, quadrato, cerco, triangolo, ha scelto il quadrato, cioè la forma determinata da linee orizzontali e verticali. Quindi ha diviso la superficie del quadro con linee rette. Nei loro rapporti spaziali, le superfici così ottenute assumono una vita singolare e autonoma. Piccole forme possono imporsi con grande rilievo entro il dipinto, in base alla posizione assunta, facendo retrocedere le grandi e rendendole prive di vita. Nei suoi dipinti più tardi, Mondrian si limitò ai colori elementari, giallo, rosso, blu, bianco e nero. Ciascuno di questi colori ha un carattere ben preciso e un peso particolare. La loro posizione nel quadro e così il loro orizzontalismo o verticalismo hanno un peso determinante. Mondrian riuscì ad esempio, nella composizione 1998, a creare un risultato di perfetto equilibrio, contrapponendo una piccola zona azzurra ed una grande bianca, equilibrio ulteriormente accentuato dalla stretta striscia orizzontale di color giallo inserita al centro in basso. Spartendo la superficie pittorica con larghe linee nere, egli ha realizzato una grande stabilità e raggiunto una evidenza assoluta. Infatti, le linee divisorie in nero isolano e rendono concreti i colori.